Ha fatto un'analisi corretta, nel senso che siamo partiti benissimo, abbiamo approcciato la gara benissimo, infatti il risultato era una conseguenza della prestazione, infatti eravamo andati sul 3-0. Poi come avviene in questo sport, l'attenzione cala negli ultimi minuti e abbiamo riaperto la partita a fine pro tempo 3-2. E poi da lì era tutta in salita, loro comunque non per caso sono primi in classifica, sono i più forti del girone, lo dicono i punti. E quindi poi era tutta in salita, addirittura siamo andati 4-3 per loro e poi i ragazzi sono stati bravissimi, credo che più che con la tecnica l'hanno vinta col cuore fino a rimontare il risultato sul 5-4. Quindi io ho fatto solamente i complimenti a loro. Per la prossima invece come li vedi? La prossima andiamo a Ciampino, una squadra che sta nelle zone medio-alte della classifica, sarà per noi l'ultima partita perché noi l'ultima riposiamo, quindi sarà decisiva per il piazzamento playoff e i ragazzi sanno quanto è importante l'ultima gara, quindi non c'è bisogno di sottolinearlo. Grazie mille. Grazie a te, grazie.